L'edizione delle 20, una buonasera a tutti voi dalla redazione di Sky TG24. Ben trovati, buonasera. Anche ai telespettatori di cielo, andiamo subito in Afghanistan perché in primo piano c'è la morte del soldato italiano, il caporalla maggiore degli alpini, Matteo Miotto, è stato colpito da un cecchino. Matteo Miotto viveva insieme alla madre, a Zanè, in provincia di Vicenza, davanti all'abitazione del ragazzo, c'è il nostro inviato Flavio Isernia. 13 militari italiani morti è il bilancio del 2010 che sarà ricordato come l'anno peggiore della missione in Afghanistan.